L'arbitro non ha avuto dubbi, calcio di rigore e adesso potrebbero passare a condurre. C'è anche l'ammunizione, l'arbitro non ci ha pensato su due volte. Possono sbloccarla dal dischetto. Attenzione, ecco il gol! È il suo primo gol con questa maglia, ha rotto subito il ghiaccio all'emtiere. Occhio al tiro della bandierina. Palla in rete, ha reagito subito, trovando il gol. Palla morbida a scavalcare la difesa. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita libera bene qui. Possono sfruttarla per andare in vantaggio. E c'è la rete! E dunque si riporta all'invantaggio. Lo vede? Non può sbagliare da lì. E c'è il gol, uno due viciniale per loro. Siamo 3-1. Fallonetto, altro calcio di rigore. Nessun dubbio per l'arbitro, difensori che dovrebbero darsi una calmata oggi. L'arbitro estrae il giallo. È il secondo della sua partita. E dunque va sotto la doccia. Non trattiene, attenzione. Supera facilmente il difensore. Esulta il portiere, fa bene. Questo vale come un... Sfugge bene la marcatura. Memphis! Sono ancora sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Partono in contropiede. Giro palla in attesa che si aprono gli spazi. Occhio a questa ripartezza. E c'è il gol! Prestazione superlativa, 3 per lui. Non ci sono più aggettivi. Attenzione! Può mettere da lì. Eccolo il gol! Sono 3, adesso le regi da regola. Buona liquizione qui. Respeggio e Van Dijk. Donali! Ci mette una pezza con questo intervento. Portiere può... Trova l'imbucata per il combattio. Si libera bene, riceve. Non la blocca, Alisson. Attenzione, si gioca. Balla in rete sulla ribattuta del portiere. Non ha sbagliato. La propria porta con un intervento davvero numero uno. Falla buona per Mbappé. Il gol che dà la situazione di parità. Hanno pareggio. Vabbè, va via la marca. Può andare in porta qui. E c'è il gol! Dimostra di essere una vera in gran forma con queste due reti. Prosegue la sua avanzata. Miracolo qui di Magnana. Occhio alla ripartenza. L'arbitro assegna il calcio di rigore. Attenzione perché potrebbe arrivare il pareggio. L'occasione da non fallire. Può essere il gol del pari. Rigore trasformato con freddezza. Una partita. Occhio al Di Natale. Possesso è recuperato in zona pericolosa. E c'è il gol, il secondo in rapida successione. Vantaggio importante adesso. Occasione. Deve solo piazzarla. L'ha appoggiata nella porta completamente vuota. Si riparte troppo facilmente. Ljungberger. E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. Tre gol di margine adesso. Ci stanno prendendo gusto. Rigore parato. Attenzione a Benzema. Benzema, attenzione. E c'è il gol. Accorcero le distanze. Forse è un po' troppo tardi. Passaggio così così questo. C'è il segnale di chiusura. Tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Vincere e... E c'è il segnale di chiusura.